È la giornata di Foa, non si sa più cosa succede, la Rai, la presidenza della Rai, tutto il mondo politico si occupa della questione di Marcello Foa che è un giornalista, non era conosciutissimo prima di questa vicenda, però aveva alle spalle una carriera più che degnitosa, ha fatto l'inviato di esteri, anche credo il capo dei servizi esteri del giornale, uno si è occupato di tante cose, solo che non è una grande firma del giornalismo italiano, però è un giornalista serio come tanti di noi, solo che non si è capito che succede, perché la legge prevede che per diventare Presidente della Rai debba prendere i due terzi dei voti della Commissione Vigilanza, della Commissione parlamentare che ha il controllo sul servizio pubblico, lui non li ha presi perché la maggioranza, cioè Lega e 5 Stelle non hanno voluto fare degli accordi preventivi con un altro partito, quando ci sono queste norme, stabiliscono che ci vogliono i due terzi dei voti, è perché si stabilisce che quella figura deve essere una figura di garanzia, cioè deve rappresentare un arco più ampio della semplice maggioranza, per cui era necessario che la maggioranza facesse accordi con le opposizioni o almeno con una delle due opposizioni o col PD o con Forza Italia, invece non li ha fatti, quindi non ci sono stati questi due terzi dei voti. E ora la situazione è molto strana, perché lui è stato eletto Presidente, si è stabilito che lui è il Presidente, però la Commissione l'ha bocciato, quindi non è Presidente. Salvini dice andiamo avanti lo stesso, andiamo avanti dove? Senza Presidente? In realtà appare di sì, che si può andare avanti senza Presidente, perché lui in quanto consigliere anziano prende ad interim la presidenza del Consiglio dell'amministrazione, si va avanti anche perché gli esperti ci spiegano che il Presidente Arai non conta niente, conta solo l'amministratore delegato, quindi abbiamo fatto tutto questo ira di Dio, sono quattro giorni che parliamo di Marcello Foa, ma lui può restare il Presidente anche se non hai voti perché non conta niente. La vera domanda è questa, ma perché da tre giorni ci occupiamo di questa questione che pare non conti niente e che è proprio una questione che sembra il gioco di società, il risico, il monopoli, io faccio così, tu fai, ma perché la politica, il problema della politica, questa è la domanda che emerge nonostante tutti i cambiamenti di questi mesi, tutto il vecchio cetodirigente è stato spazzato via, è arrivato un nuovo cetodirigente, giovane, Di Maio, Salvini, tutti quarantenni, non si capisce bene la differenza perché fanno esattamente le stesse cose, solo con persone più sconosciute, ma non è che sulla RAI o su le altre cose si comportino in modo particolarmente diverso, la Presidente delle Ferrovie si occupano di cassa, depositi e prestiti, chi è Presidente, chi non lo è, Ferrovie, cacciani vecchi, mettono i nuovi, però tutta di questa roba, poi sulla RAI addirittura si scopre che anche se non viene eletto poco male perché non conta molto, non è il dubbio che viene è questo, ma la crisi della politica di cui si parla sempre, da che cosa dipende? Dipenderà anche da questo fatto qui, cioè dal fatto che poi delle questioni concrete, delle questioni serie su come si riorganizza la società, su come si riorganizza l'economia, su come si riorganizza lo Stato di diritto e invece nessuno poi ha molto da dire, quando parlano dicono delle grandi fesserie, come ha fatto Grillo recentemente che proponeva di sostituire la democrazia con il sorteggio, certo viene il dubbio che può anche andare bene perché se la politica si deve occupare di queste cose qui, il Presidente della RAI pure se le leggono per sosteggio, finisce la stessa cosa.